Invecchiamento in salute e prevenzione attraverso la vaccinazione sono i temi al centro di longevità, conquista, rischi e opportunità, la terza edizione degli Stati Generali dell'Invecchiamento Attivo organizzata a Roma da Happy Aging, l'Alleanza Italiana per l'Invecchiamento Attivo. La popolazione italiana è infatti sempre più longeva, una conquista di salute e di un sistema sanitario che ha saputo garantire prevenzione e cura e a cui sono collegati rischi e opportunità. A mettere in pericolo la salute dei fragili e degli anziani, oltre che dei bambini, e prevenibili grazie al vaccino sono le infezioni respiratorie come influenza, covid, pneumococco. In questo momento è vigente il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025. Le offerte sono il vaccino anti-influenzale, il vaccino anti-pneumococco, il vaccino anti-zoster e il richiamo covid, naturalmente questi vaccini per le categorie interessate che sono per la grande parte gli anziani e i soggetti fragili. Particolarmente rischioso per gli anziani anche il virus respiratorio sinciziale. È un virus molto pericoloso perché dà delle bronchiolite, le bronchite, sintomatologie, respiratorie molto importanti che spesso portano in rianimazione o addirittura anche molti decessi legati a questa patologia. È un virus che riscontriamo ormai dopo il covid, quando ci sono malattie polmonari, adesso viene fatta la diagnosi con gli strumenti che adesso sono sicuramente aumentati, quindi possiamo contare quante malattie da virus respiratorio sinciziale ci sono e sappiamo che possiamo evitarlo con la vaccinazione. Ma il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale non è ancora stato inserito nel piano nazionale di prevenzione vaccinale. Questo ci preoccupa perché la stagione invernale sta per arrivare e quindi il virus non aspetta le leggi regionali o l'implementazione del piano. Potremmo avere il fatto che in qualche regione gli anziani potrebbero essere protetti, in qualche altra regione no. Le regioni che possono sostenere economicamente l'offerta di questo nuovo strumento di prevenzione alla propria popolazione si stanno attivando, ma il rischio che si creino disparità di accesso alla prevenzione e alla salute preoccupa gli esperti. L'auspicio è che ci sia un'equità d'offerta delle vaccinazioni, perché noi rischiamo di avere e in parte sta già succedendo le regioni più sensibili al tema, con più risorse tecniche, con magari più risorse economiche che vanno a fare proposte innovative e altre regioni che rimangono indietro. Il calendario del 2017 ebbe quel grande merito di riportare all'equità d'offerta, cioè gli anziani come i bambini come gli adolescenti in tutte le regioni italiane devono avere le stesse possibilità di prevenire le malattie.